Questo è il vero caffè napoletano, celebrato da Edoardo De Filippo nella famosa commedia Questi fantasmi, dove dal balcone raccontano al dilimpettaio come si fa una vera tazza di caffè e questa io la offro a voi. Senti, si comincia a sentire. Infatti stavamo vedendo, adesso se ci dà qualche indicazione in più vediamo questo beccuccino. Il beccuccino lo togliamo ancora qualche minuto quando siamo sicuri che è sceso tutto il caffè. Ecco, si mette a punto per evitare che si disperda l'aroma e quindi la tazzina di caffè è più buona. Abbiamo appena preso un buon caffè in compagnia della signora Elvira. L'avete già vista e l'avete già conosciuta, era intorno all'inizio di luglio una chiacchierata veloce con Piero dove si parlava di Alfa Romeo. Lei è la signora Elvira Ruocco, una grandissima protagonista quando parliamo di Alfa Romeo, però con lei oggi vogliamo fare un po' un viaggio in quella che è la sua vita. Partendo anche proprio fin dall'infanzia perché, come stavamo dicendo prima... E poi arrivano i miei ricordi. E quindi partiamo proprio appunto dalla... C'era una da Napoli da una famiglia borghese. Mio papà era laureato e diplomato al Conservatorio di Napoli, San Pietro e Maiella. Abbiamo vissuto con i nonni, i nonni materni, la nonna e il nonno, i genitori della mia mamma. Avevamo una casa molto grande e poi dopo i nonni sono venuti a mancare, ci siamo trasferiti al Vomero e lì poi è iniziata la mia vita di ragazza. Come dicevamo prima, tra di noi, prima di iniziare le riprese, lei ha avuto un papà importante. Vogliamo parlare un po' del papà e magari anche del suo rapporto con il suo padre. Ah certo. Mio padre era... innanzitutto lavorava al Cardarelli come segretario generale e personale dell'allora presidente che si chiamava Bondonno ed era anche responsabile degli archivi. Pensate un po', io in Alfa Romeo sono stata anch'io responsabile dell'archivio storico. Io ho dei bellissimi ricordi, innanzitutto di mio padre, che era una persona mite, un gentiluomo, sempre molto elegante. Non ho mai sentito alzare la voce, è sempre stato molto gentile, ci ha sempre dato i consigli e è stato un ottimo padre e ci ha dato un buon esempio in tutti i sensi. E poi ci ha fatto nascere e vivere, crescere nella musica. Lui tornava dal lavoro alle due e mezza, mangiava e poi si ritirava nel suo studio. Per noi era un po' difficoltoso studiare, perché quando andavamo nelle nostre camere a studiare sentivamo questo accompagnamento musicale che a volte ci distraeva, specialmente quando sentivamo che quel motivo era un motivo nuovo, che non avevamo sentito prima. Siccome io sono la più grande, la prima, mio padre spesso mi chiamava e mi diceva Elvi, perché mi chiamavano Elvi in famiglia, vieni qui a sentire se ti piace. Mi piacevano tutte, mi piaceva vedere quelle sue dita che passavano veloci sui tasti del pianoforte. Mi aveva insegnato anche a fare qualche cosa, però non era la mia passione quella lì di suonare il pianoforte, era più magari mi piaceva cantare le canzoni. Lui diceva sentiamo un po' come viene questa, magari con il foglio in mano delle parole e del paroliere. Qualche volta abbiamo fatto questa cosa. Mi divertivo di più, ma suonare no, preferivo che lo facesse lui. Mi dava un'emozione che io non provavo io a farlo da me. Ecco, poi la mia casa si riempiva spesso di cantanti, per esempio Mirna Doris e Maria Paris. Però quello che era più assiduo era Sergio Bruni, perché era un grande amico di mio papà. E poi anche Mario Abate. Noi siamo cresciuti con i figli di Mario Abate, una voce bellissima quella di Mario Abate. Ha portato al successo tante canzoni di mio padre come Namurata Bugiarda, Tutte e due. Veniva spesso Sergio Bruni, appunto, parlando di lui, specialmente quando c'era la festa dell'Immacolata, perché noi avevamo un terrazzo molto grande. C'era la nonna che preparava le pizzette fritte, quelle con dentro la ricotta e il pepe, solo ricotta e il pepe, poi alcune invece delle pizzette con sopra il pomodoro. Poi la mia mamma faceva l'impeppata di cozze, lui portava l'anguria, l'anguria gigante, e la chitarra. E quindi eravamo su questo terrazzo e l'aspettavamo con ansia, perché altrimenti la chitarra anche mi piaceva. Ho provato anche qualche anno a farlo, ma non sono stata costante. Nella mia testa c'è sempre stata l'Alfa Romeo, la ricerca, la curiosità, il fatto di indagare, di trovare documenti. Questo mi ha appassionato moltissimo, più che la musica, mi piace ascoltarla. Sì, questo sì, sono una bella collezione di dischi, eccetera, anche quelli di mio papà. Poi mio padre ha vinto dei festival di Napoli e diciamo che uno famoso è stato quello del 59, quando si è classificato secondo dopo Guaglione, quella che fa tu sei Guaglione. Mio padre invece fece un'altra che si chiamava Sospirando una canzone. E questa canzone è stata talmente famosa che è stata tradotta in giapponese col titolo Okage Samodo che significa la vostra onorevole ombra, perché diciamo all'inizio della canzone fa e quindi loro tin, 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 e noi ragazzi ci divertivamo tantissimo. Era diventato il tormentone della nostra... sì, quando vogliamo scherzare così tra di noi facevamo tin, 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 tin. Sì, sì, questo è un episodio che mi ricordo. Il nonno poi invece diventava matto, quindi chiudeva tutte le porte, state zitte, eravamo in cinque, quindi puoi immaginare la confusione che si faceva. Il più piccolino era mio fratello Arturo, poi io sono la prima, la seconda Luciana che vive a Napoli e siamo quasi, diciamo, gemelle, perché è nato un anno dopo di me. Siamo molto unite, dormivamo nello stesso letto matrimoniale, viviamo nella nostra stanza. Poi c'era Marina, una sorella che purtroppo abbiamo perso. E poi c'è Paola, che è venuta qui a Saronno, è venuta nel 1993, si è trasferita qua, quindi c'è una parte della mia famiglia qua. E poi c'è appunto Arturo, mio fratello, che vive a Napoli. E in tutto questo, visto che è una famiglia numerosa, la mamma era impegnata? Beh, la mamma era un'insegnante, non ha mai lavorato, diciamo, però era diplomata, ed è stata in economia domestica, quindi ci ha insegnato tante cose. Guarda, se ricordo mia mamma, mi ricordo il fatto che non c'erano momenti da non far niente. Perché appena ci vedevi, non fai niente? Allora vai, guarda che in cucina c'è da fare questa cosa. Oppure c'è da andare a pulire i vetri, ma l'abbiamo fatto ieri. Beh, non fai niente, fallo ancora perché mi piace che siano puliti. E poi c'è un episodio che devo raccontare. Noi avevamo, questo è sempre sorridere, perché avevamo una signora che veniva a dare una mano alla mia mamma una volta alla settimana a fare un po' di pulizie. Di solito veniva il giovedì. Il mercoledì, di solito a cena, sempre a cena, eravamo tutti intorno al tavolo, allora mia mamma incominciava a fare, diciamo, il rosario, nel senso che diceva allora tu metti a posto le scarpe, tu fai questo, tu fai quello, perché domani viene Pasqualina. Poi tu devi sistemare lì, guarda, ricorda che domani viene Pasqualina, eh? Guarda che domani viene Pasqualina. A un certo punto mio padre mi fa, ma sì, ma allora cosa la paghiamo a fare questa Pasqualina? Se dobbiamo fare tutto noi. Ecco, questo per farvi capire com'era mia mamma precisa, che guai, non ci doveva essere niente fuori posto. E se magari a volte dovevamo trovare delle scuse e dire che dovevamo studiare per l'interrogazione di domani, per evitare di pulire un altro altimetri. Possiamo dire che il papà è stato l'anima artistica, è quello che le ha dato l'anima artistica, e la mamma forse le ha dato anche l'ispirazione, anche per poi il lavoro da archivista, perché il metodo le ha dato. Sì, 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 è vero, sì, questo sì. Ma io sono, anche per le mie cose personali, io, tutti i documenti sono tutti catalogati, non c'è niente fuori posto, riesco a trovare sempre subito in tempo reale, veramente. Mi piace, mi piace l'ordine, ci vivo bene. Anche se dicono che quelli che sono più vivono meglio nel disordine. Io invece no, io mi concentro di più se sono ordinata, se so dove cercare le cose, anche perché le mie giornate sono sempre pienissime, faccio tante cose. Piero lo sa che abbiamo già parlato in un'altra intervista, che faccio anche teatro, sono speaker della Radio Orizzonti dal 2009. Ho iniziato perché un'amica mi chiese ho un buco di una mezz'ora, verresti a fare un'intervista così, visto che tu sei stata in Alfa Romeo, ci puoi raccontare qualcosa. E infatti facciamo questa intervista. Da allora la, diciamo, la responsabile Pinuccia mi disse se volevo restare e mi diede una mezz'ora del mercoledì che io poi ho impiegato per tanti anni parlando di tante cose. Ho iniziato nel 2010 raccontando i cento anni dell'Alfa Romeo. Quasi tutto l'anno, ho iniziato a gennaio, poi ho finito proprio il 24 di giugno, l'anno della nascita dell'Alfa. E poi dopo ho continuato con Gli Eroi del Mondo, il Novecento, Napoli Ocara, ho dedicato anche alla mia città, Un viaggio nei piaceri del vivere, La stoffa delle donne, ci ho parlato di moda, i 60 anni della televisione italiana, e i papi della nostra vita. Quest'anno ho iniziato con, cioè alla ripresa estiva, con un nuovo programma che si chiama Il gioco dei perché. Se sei curioso, questo è il programma che fa per te. E quindi invito chi ci ascolta di collegarsi il mercoledì alle 10.28 per sentire, ecco, può anche chiamare in diretta, fare qualche domanda, io cercherò poi le risposte, magari se non subito la settimana successiva, perché è tutto un lavoro di ricerca anche mio nel fare questa cosa. La personalità poliedrica, la sua, perché ci ha fatto vedere anche qualche sua opera, qualche quadro che lei ha fatto, qualche annetto addietro magari. Ha inventato tante cose, guarda. Il metodo che ha avuto, quindi, le ha anche dato la possibilità di aprire nuovi orizzonti. Devo dire che ha avuto anche delle belle amiche, perché se dipingo e se... mi sono cimentata anche nel decoupage, che non è così tanto facile, lo devo alla mia amica Anna di Lainate, che lei mi ha... in un periodo un pochino triste della mia vita, dove mi organizzavo, riprendevo in mano la mia vita, non per motivi di salute, per motivi sentimentali. Ecco, io ho avuto vicino delle amiche che mi hanno dato una grande mano. L'Anna mi ha cercato di insegnarmi queste cose per tenermi comunque distratta e impegnata a fare queste cose. Ho persino anche cucito, che non sono... ho imparato a cucire, che io non l'avevo mai fatto. Quindi, e dipingere con il suo aiuto, ecco, ce l'ho fatta anche questo. Poi, una volta acquisito queste cose, poi io sono aperta a tante... cioè, mi piace cambiare, mi piace... però resta sempre dentro di me questo, ricordatevelo. La passione per l'Alfa Romeo, quello che giri intorno. Ecco, perché è stata la mia vita, è stata la mia vita davvero. Sì. Infatti su questo, adesso per forza di cose, arriviamo anche all'Alfa. L'aneddoto che lei raccontava a luglio era questo che mi ha incuriosito. Io le volevo chiedere se è più importante per lei la mozzarella di bufalo o l'Alfa Romeo. So che è l'Alfa Romeo. Perché io sono un estimatore della mozzarella di bufalo, quindi quello era il mio problema. Ma per cosa tu l'avrei mangiata dopo? Questo aneddoto c'entra lo zio, invece. Sì, lo zio Lino, che è venuto a mancare l'anno scorso. Praticamente il marito dell'ultima sorella di mio papà, della zia Maria, che sento spesso. Lui è stato sempre un appassionato di Alfa Romeo. Di fatto ho anche alcune fotografie dell'epoca sulla Giulia, della zia, dei miei cugini. E quando veniva a Napoli la domenica, quasi tutte le domeniche, perché mia mamma era stata figlia unica, quindi amava avere intorno a tavola le persone la domenica. Io di meno, perché ero quella destinata in cucina a preparare. Poi vi racconterò di alcune ricette di cucina che mi aveva insegnato mia mamma, che erano molto laboriose e che non ho più fatto. Comunque, dicevo che arrivava lo zio, allora la zia veniva in manca al piano, sapevamo già che aveva questo cestino pieno di mozzarella, ma anche di, per esempio, di peperoni, di melanzane, queste cose qua, e saliva su dalla mamma. Noi ci facciamo trovare già giù nel portone, salivamo in macchina, e lo zio, siete pronti? Sì, siamo pronti. Io e mia sorella ci tenavamo per mano e andavamo. Quindi, non vi dico, a Napoli, quando c'è traffico, non si poteva andare veloce, ma la domenica, in un periodo, cioè il momento che c'era la partita, o durante, o un po' primo, quando c'erano tutti allo stadio, le strade erano più libere, e quindi in quel momento lì lo prendevamo per fare questo giro. Ed era veramente una cosa, io ho provato delle grandi emozioni su quella vettura lì. Tante volte non pensavo che era un bravo pilota lo zio, ma che era bella la macchina che lo portava. E' questo che io pensavo. E dicevo, chissà se un giorno, mi piacerebbe tanto andare a lavorare in Alfa Romeo, però sapevo che l'Alfa Romeo, sì, era a Napoli, ma non c'era ancora l'Alfa Sud, perché vi parlo di questa cosa quando ero ancora una ragazzina. E c'era però lo stabilimento aeronautico di San Martino, quindi io pensavo alle macchine, no, non alla parte aeronautica. Quindi, pensavo di andare a lavorare dove si producevano le vetture, ma sapevo che era a Milano, quindi era un po' un sogno irrealizzabile. E invece a volte la vita ti dà dei segnali che poi metti insieme e ti trovi a fare quello che hai sognato. E a me è capitato, sono stata fortunata. Sì. Però mi stava dicendo appunto che la mamma le ha insegnato a fare dei piatti particolari. Allora, parliamo un attimo. La pazienza da certosino. Per esempio, mia mamma piaceva tantissimo fare il ruoto che si chiamava così ruoto con le alici. Ma le alici non è che si mettevano in terra così, no. Io le dovevo pulire tutte, dovevo lasciare i due filetti di alici, poi avevo a fianco una bella scodella piena di capperi, belli sgocciolati, così. Cosa facevo? Prendevo un filetto di alici, l'arrotolavo, mettevo il cappero e poi lo sistemavo su questo ruoto. Voi immaginate tante persone, c'erano due di ruoto, io iniziavo la mattina e finiva il momento che andavo infornato un po' perché poi si mangiava. E poi, per esempio, la pasta al forno che non è come la lasagna qua, è una pasta che viene poi condita col pomodoro, mozzarella e poi c'erano le fette di melanzane fritte oppure, per esempio, la parmigiana di carciofi, la parmigiana di zucchine, questi erano i nostri, cioè i secondi così, la carne si mangiava solo il giovedì, poi tanto pesce e queste pietanze che vi ho appena detto. Quindi era tutta una preparazione, siccome avevo pazienza, ero io quella destinata a fare queste cose. L'ha un po' fregata, le altre sorelle, fratello, stavano lì tranquilli. La sorella Luciana faceva le pulizie, allora, la verità, preferivo in quel momento là stare in cucina piuttosto che andare a pulire i ventri un'altra volta, le dico con sincerità. Poi ogni tanto qualcosa mi mangiavo, quindi, prima di tutti gli altri. Napoli, ovviamente, ha anche una frase che io ho trovato, mi scuso, però alla fine sono i post pubblici, quindi ho detto da un'occhiatina. Ho visto anche il post per ricordare il suo padre e un paio di giorni prima lei ha riportato questa frase, ha fatto questa citazione di Sarah Kaye, perché non c'è niente di più bello del modo in cui l'oceano rifiuta di smettere di baciare la costa, non importa quante volte è stato mandato via. Mi sembra una frase che ci dà anche l'idea del fatto che lei sia proprio nata a Napoli perché si parte dall'oceano e c'è il Martirreno, però Martirreno, Golfo di Napoli, città di Napoli, quartiere dove lei è nata. Sì, come puoi immaginare come è stato bello, per esempio anche con le mie sorelle quando camminavamo, passeggiavamo in via Caraccia, risiedevamo magari su uno scoglio e vedevamo proprio questo movimento che poi tra l'altro mi devo per forza ricollegare all'Alfa Romeo, sa perché? Perché io ho fatto questo paragone del mare che va sia lontana e poi ritorna per tutto quello che io ho fatto in Alfa Romeo. Lo facevo sinceramente perché era il mio dovere perché ci tenevo all'immagine dell'azienda ma anche alla mia perché in archivio si sapevano tutti che la chi era responsabile e la responsabile ero solo io, non c'era nessun altro che potesse fare. Quindi un errore sarebbe stato chiaramente imputabile a me ed ero molto attenta anche perché avevo a che fare con dei dati molto importanti, cioè il fatto di restaurare una vettura, di dare un codice tinta originale, sbagliare il codice tinta sarebbe stato una spesa e non è mai successo e l'assicuro. Quando ho lasciato l'Alfa non ho lasciato l'ambiente dell'Alfa perché subito gli alfisti mi hanno rintracciato, mi hanno voluto ai raduni, alle conferenze, eccetera, eccetera. Quindi io sa cosa ho pensato. ho pensato che il mare si allontana, no? Perché io ero andata via, però quando torna cosa fa? Spesso lascia le conchiglie, qualcosa. Ecco, per me queste cose sono tutte queste conchiglie, capisce? Cioè l'affetto, la stima degli alfisti per me vuol dire questo. E io, forse perché sono napoletana e ho visto questo Anderiviene del mare e questo bacio che viene dato, ecco, io mi sento baciata ogni volta che sono chiamata in un raduno perché so che sono accolta veramente coccolata. Io cerco di ripagare andando appunto ricordando sempre la storia dell'Alfa Romeo, ricordando un personaggio. Recentemente, due domeniche fa siamo stati al passo a Bobbio per ricordare i collaudatori dell'Alfa Romeo. Abbiamo posto una targa sette anni fa su un bar, il bar dove i collaudatori si fermavano a bere il caffè durante la pausa e quindi ogni anno abbiamo questo rito e io ci torno sempre volentieri perché di collaudatori ne ho conosciuti tantissimi a cui ho voluto bene e a cui sono stata vicina anche sempre anche dopo che ho lasciato l'Alfa Romeo. Tornando al passaggio che si fa da Napoli venire qui in Alfa, quando è successo come si è sviluppata la cosa? Io ero venuto in viaggio di nozze qui a Saronno perché c'era adesso ci sono più gli zii del mio ex marito che lavoravano qua ma da tanti anni e noi nel viaggio di nozze che si faceva a Roma, Firenze naturalmente Milano e ci hanno ospitato una settimana io mi ricordo quando sono arrivata in stazione di Saronno ho detto ma che carina perché poi venivo da una città e poi anche non solo da Napoli ma ero stata a Roma a Firenze quindi città molto arrivo qua tranquillo c'era poca gente dico ma che bello piacerebbe stare qua ma buttata così poi quando invece mio ex marito che lavorava anche lui in Alfa Romeo venne ad Arese allora ci trasferimmo qua e la zia doveva ospitarci solo una settimana invece purtroppo questo lo devo dire perché è una cosa che mi dispiace dire però è così devo constatare che per tre mesi ho girato a vuoto per cercare un appartamento nonostante fosse accompagnata da mia zia che lavorava qui a Saronno e che era qui da tanti anni e parlava anche il dialetto del posto nessuno mi voleva dare la casa perché mi diceva ma di dove siete? di Napoli oh guardi l'ho già appena fittata no ho parola un'altra persona e io dopo tre mesi che ero stata qui avevo lasciato la mia bambina Lilla la mia prima figlia la mia sorella chi è fatta da madre in quel periodo lì io avevo voglia di tornare a Napoli ero scoraggiata ho detto io vado giù se non si trova la casa vado giù la zia ci ha aspettato per tre mesi anche per me ero imbarazzata a dover restare ancora lì però cosa è successo? sempre quei segni che dicevo prima eravamo in via Visconti parlavo con la zia perché lei mi accompagnava dopo quando smettevo di lavorare parlavo con la zia dicevo no io torno giù zia perché non ce la faccio più a stare qua io devo andare giù a vedere mia figlia poi non c'erano i cellulari non c'erano le fotografie sì mia mamma mandava qualcosa ma ci voleva tanto tempo e allora vediamo un cartello nella casa della famiglia Malnati e affittasi monolocale allora lei fa ma è piccolo non fa niente è anche piccolo vediamo suoniamo entriamo c'era la Maria Luisa Malnati la figlia della signora Malnati la voglio ricordare perché grazie a lei se poi ho trovato la casa e mi disse veramente io non posso decidere però mia mamma ha le cure termali quindi è ancora scoraggiata dico allora vuol dire che anche questo non si può fare e fa in quel momento mi venne da piangere dico sinceramente però mi viene lacrime negli occhi lei mi guardava mi disse ma perché cosa è successo mia zia disse perché c'è la bambina a Napoli sono tre mesi non riesce a vederla e vorrebbe tornare giù e abbiamo avuto difficoltà a trovare casa allora lei ha preso subito il telefono adesso chiamo mia mamma chiamo mia mamma sento lei sento la conversazione c'è qua una sposina che c'è una bambina tre mesi così così qua con la zia che la zia cercava e gli dica che io lavoro qui che sono di Saron cioè praticamente e quindi la signora disse senza neanche vedermi disse va bene ok d'accordo io che camminavo sempre con l'anticipo in tasca mi ricordo che avevo 50.000 lire sempre perché dico se magari mi dicono di sì io subito do l'anticipo e così fermo la casa lì mi chiese ce la feci perché mi chiese due mesi e pagavamo 13.000 lire allora di affitto pensate un po' ma quando sono uscita da quella casa innanzitutto ho ringraziato la Maria Luisa che poi tra l'altro a volte incontro per strada che chiede dei miei figli perché li ha visti crescere tra l'altro prendeva sempre la mia bambina la Lilla se la portava con sé la faceva giocare nel giardinetto nel suo giardinetto insomma devo dire che poi io amo Saronno perché sono nel mio cuore c'è Napoli sfido chiunque a rinnegare oppure non pensare non avere nostalgia della città di origine però io adesso io a Saronno sto bene e qui si è svolta tutta la mia vita ho qui le mie amicizie e sono contenta insomma di essere qua ogni tanto vado a Napoli quando vado via piango perché naturalmente la devo lasciare il mare devo lasciare il sole la famiglia però quando vengo qui trovo la mia famiglia c'è mia sorella ci sono i miei figli quindi si va avanti non mi lamento già che ci siamo dopo quel primo impatto piuttosto duro per sentirsi rifiutare è una cosa che succede lo sappiamo benissimo anche oggi con che arriva da fuori si ripete la storia perché vedi ho dimostrato a Saronno comunque a quelle persone che mi avevano chiuso la porta oggi grazie anche a voi a Piero che ha voluto questa intervista che poi una persona ce la fa non si può a priori dire perché vieni da quella da quella zona a quel posto non sei non sei adatta non puoi stare qua e non è così perché invece poi le persone bisogna conoscerle e poi se dai fiducia alle persone le fiducia ti ripagono anche di quella fiducia che hai avuto e quindi naturalmente fai sempre vivi sempre una condizione al di sopra magari della tua per dimostrare agli altri che sei come gli altri e quindi è brutto perché in alcuni momenti io questo l'ho provato a volte quando si devo dire è perché Terroni una volta ho detto guardi io dico se vogliamo parlare di Terroni disse questa signora quando abitavo in via Visconti dovrei dire che lei perché lei c'ha il giardino nella sua villa io non ho neanche la pianta di basilico a casa mia perché non c'ho posto in un monolocale di tenere una piantina di basilico io la terra non l'ho mai toccata poi ho scoperto non so se voi lo sapete un collaudatore dell'Alfa Romeo torniamo sempre lì ma scusate chiedo scusa a chi ci ascolterà che magari non so tiene per la Mercedes solo a BMW ma io sono alfista e allora per forza devo e mi raccontò che il termine Terrone lui mi chiamava Terroncella ma mi chiamava perché però mi ha detto perché perché lui era stato a Napoli aveva lavorato in una filiale di Napoli e i napoletani i veri napoletani sono i veri signori perché lui stava era andato in molte case di napoletani di operai tecnici dirigenti della filiale e si era trovato benissimo quindi mi diceva io ti dico così perché mi fa piacere dirtelo visto che non ti offendi e poi ti spiego perché è stato creato questo termine perché durante la diciamo così la prima cioè l'unificazione d'Italia che comunque il sud l'ha rovinato lo sappiamo se abbiamo studiato la storia cosa successe che i piemontesi quando mandavano giù facevano scavare le trincee meridionali e quindi quelli che scavavano le trincee erano terroni e per questo è rimasto i meridionali e terrone perché il ricordo è quello che scavava le trincee ecco questo è quello che mi ha raccontato Guido Moroni collaudatore milanese dell'Alfa Romeo come abbiamo visto appunto un po' questo inizio e dopo se ci è voluto qualche anno magari di ambientamento o le cose sono migliorate velocemente io guardi non mi perdo d'animo anche se ho avuto un figlio dopo l'altro perché dopo un anno quando sono arrivata qua che portavo sulla bambina mi sono accorti che aspettavo il secondo figlio quindi un anno di differenza giusti e volevo tornare a lavorare perché io a Napoli lavoravo in una fabbrica a Salerno a Pagani in provincia di Salerno e ho dovuto per forza licenziarmi perché non potevo lavorare qui fare un passaggio e quindi poi dovendo aspettare anche il secondo figlio ho fatto la mamma quei due tre anni là poi ho ripreso a lavorare ripreso a lavorare dove c'erano sotto i fraschini c'era una fabbrica che se non ricordo il nome dove si producevano materassini da spiaggia gonfiabili praticamente e allora l'ufficio di collocamento mi mandò lì io quando entrai lì non sapevo cosa fare dopo un po' mi misero in mano una pistola d'aria ma pesantissima e mi facevano gonfiare materassi e come li ho chiamati prima quelli per i bambini ah sì i braccioli e allora ripresi e dicevo ma a che serve noi stavamo in questo capannone con tutta una montagna di cose questo è il primo giorno mi chiedevo ma perché il giorno dopo la mattina dopo trovai queste file anziché essere così alte erano più basse perché tra un materassino e l'altro ce n'era uno sgonfio quello era un test era una prova per vedere se erano tutti perfetti quindi quelli che succedevano c'erano poi gli operai che li sfilavano solo che io non ho resistito perché dopo due tre mesi praticamente non avevo più qui la carne sul dito perché tenendo sempre questa pistola non riuscivo più a lavare non riuscivo più a fare niente avevo sempre la mano sempre allora dissi no non ce la faccio fu anche mio ex marito mi disse lascia stare stai a casa ci arrangiamo con quello che è perché poi non abbiamo mai avuto aiuti non avendo la famiglia qua non ci sono mai stati i pranzi la domenica dalla mamma dalla sua ocia era mai quindi ho dovuto fare sempre tutto io e allora a quel punto là dissi ma mi fermo perché non posso però allora cosa cominciò cominciò il tormentone quando i bambini cominciarono a crescere un po' di più allora dico io voglio tornare a lavorare non ce la faccio a fare soltanto la casalinga e tornai all'ufficio di collocamento e così fui assunta alla gamma non so se vi ricordate la gamma era la che diventò poi Upim era un supermercato che è lì in via Roma e in Corsi Italia scusate in Corsi Italia e prima mi assuntero come commessa di terzo livello poi vi ricordo che un giorno mentre eravamo lì durante l'intervallo c'era c'era il titolare che è responsabile che disse ho bisogno di una segretaria perché qui e dico scusi guardi che io sono io ho il diploma di stenodattilografia Galbesberger che si chiamava quel sistema lì sono datilografare conosco le lingue se volete magari allora se facciamo una prova feci la prova e così lasciai diciamo così i riparti andai su all'ultimo piano dove c'erano gli appartamenti c'era lo studio dell'ispettore di zona che si chiamava Esposito e così lì ho lavorato mi ricordo che facevo però gli orari del negozio e quindi il sabato a un certo punto mentre ero lì sentivo i miei figli mamma mamma io mi affacciavo e vedevo mio marito e due bambini dove c'è il bar di fronte che facevano vieni vieni perché allora facevano una passeggiata e io dicevo ancora un po' ancora un po' perché dovevo aspettare l'orario di chiusura e è stato un periodo un po' diciamo così duro per me perché rispettare gli orari del negozio poi durante l'intervallo venire a casa preparare la cena lavare insomma era veramente un lavoro che interrotto e così cominciai a tormentare mio marito a dire io voglio entrare in Alfa Romeo voglio entrare in Alfa Romeo guarda che c'era anch'io quel sogno lì io voglio entrare in Alfa Romeo allora prepariamo un curriculum e lo portiamo cioè lui lo presentò alla direzione tra l'altro lavorava proprio alla direzione del personale come nel reparto che si occupava delle paghe e dei contributi quelle che facevano le buste paghe però è raccontato insomma con i dirigenti col direttore del personale che si chiamava Dottor Pierani e dopo un po' ebbe il primo colloquio tutta contenta io forte di me perché sapevo le lingue le conoscevo bene sapevo avevo vinto la medaglia d'argento in un concorso di steno d'attilografia dico mi prendono sicuro poi c'è mio marito qua e invece il primo colloquio con questo ingegnere Venturini mi mi fa avevo già fatto una prova comunque di queste cose qui era solo il colloquio per decidere e mi fa e cosa fa? lavora? dico sì lavoro dove? alla gamma di Sarono gli avevo spiegato che gli orari non coincidevano con la famiglia e perciò volevo venire in Alfa poi la mia passione era lavorare in Alfa Romeo il suo marito dove lavora? mi fa la domanda e dico in Alfa signora guardi io ho conosciuto la mia segretaria l'ho sposata ma l'ho tenuta a casa non va bene lavorare marito e moglie nella stessa azienda perché può capitare una crisi e quindi si trova fu profeta in patria come si dice perché in effetti poi quando arriveremo più avanti all'Alfa vi dico poi la crisi familiare che abbiamo vissuto sempre per la crisi aziendale quindi a questo punto mi disse mi dispiace ma lei resti il lavoro c'è là quindi non le dico non la mando a casa senza lavoro vabbè io andai a casa triste perché non è possibile dai veramente sono andata bene e passò un po' di tempo lui mi diceva non posso andare a riproporti ancora devo aspettare ancora un po' così un altro colloquio al terzo colloquio invece la scuola assistenza e lì siccome mancava la segretaria non pensarono al fatto che c'era anche mio marito che lavoravo in azienda e così mi assunse il 3 gennaio del 72 ho messo piede nello stabilimento del portello dell'Alfa Romeo e ho coronato il sogno della mia vita voi non ci potete credere ma avevo una tachigardia pazzesca entro che cosa trovo al di là del cancello una Giulia e poi una 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 montrea l'arancione non l'avevo mai vista perché per me le Giulia e le queste le macchine dello zio oppure in passato la 2006 di mio padre ma la montrea mi aveva colpito perché dico mamma mi sembrava le macchine che sono nei film sai quei film tipo James Bond no e c'è una cosa mi sono fermata a guardarla poi ho detto devo andare perché devo entrare e quando entro in questo reparto avete presente quelle porte di plastica grandi che si aprono così e beh per me sono sembrate due ali di angelo che si aprivano mi facevano entrare in questo reparto dove ho sentito subito un odore di benzina e dove ho visto tutti questi operai con questa tutta azzurra con una scritta in corsiva Alfa Romeo e delle macchine che erano sul ponte che ci lavoravano sotto e mi sono guardata in giro e ho detto questo è il posto dove mi piace stare anche perché quell'odore di benzina mi piaceva già da piccola quando camminavamo per Napoli sa che a Napoli tutti salite discese così c'erano tantissime officine così anche piccole perché poi bisogna anche ingegnarsi perché il lavoro non c'è quindi si inventava anche la piccola officina vicino casa e io andavo ad annussare la benzina e mia sorella che schifo devo dall'altra parte a me piaceva a me piaceva quindi vi dico potete immaginare la gioco che ho provato poi mi assegnarono appunto questo lavoro di segretaria battevo a macchina tutte le relazioni che gli ispettori facevano quando tornavano dalle varie diciamo così filiali non solo in Italia ma anche all'estero erano scritte in fretta magari con molti errori grammaticali e quindi io li mettevo in bella forma correggevo le cose che quando poi li vedevo dicevo ma l'ho scritto io questo ma che bello brava tutte le sere tutte le mattine trovavo il cioccolatino le caramelle sulla mia scrivania è stato un periodo bellissimo e quando ho lasciato il portello per venire da Rese sempre perché ho messo i miei figli davanti anche al lavoro e avevo bisogno di stare vicino a Saronno e non il treno a Milano e gli sciopri e quelli mi costringevano a lasciare i miei figli all'asilo e per ore e io ero preoccupata cioè non mi sentivo tranquilla è così che si è il trasferimento ad Arese e ho iniziato poi ad Arese ho lasciato il portello però fui accompagnata alla stazione da uno dei diciamo così dei collaudatori che erano gli altri su una 1750 Spider con i miei pacchetti dietro i regali e tutto e io così con i capelli al vento alla stazione alla bollona allora c'era la bollona sì sì e poi da lì allora è iniziata la seconda fase che lei se ricordo bene ha fatto 35 anni sì 35 e 23 all'archivio sì da sola ecco sì sì questo ci tengo a dirlo allora io ho appena arrivata ad Arese mi mandarono in una la direzione commerciale che era la direzione dove mi assegnarono un lavoro veramente io dovevo fare altro che comunicare alle filiali dei numeri di telaio di camion o di furgoni che venivano assegnati alle varie filiali quindi aspettavo il fax al mattino prendevo questi numeri telefonavo poi c'era poco da fare allora però avevo notato che c'era su una scrivania una montagna di veline di lettere veline delle lettere no le veline che di solito c'erano di diversi colori azzurro rosa giallo e io mi chiedevo cosa fossero a un certo punto chiesi a qualcuno se no sarebbero da archiviare allora dico beh ci provo io perché mi dà fastidio guardare quelle cose quelle veline lì ogni tanto qualcuno si appoggiava cadevano si mettevano male così mi sono messa lì a fare mi sono fatto ordinare un po' di faldoni e li ho sistemati tutti poi cosa è successo è successo che mi ero accorta che che molti di miei colleghi si lamentavano per il fatto che io uscivo mezz'ora prima ma io entravo mezz'ora prima avevo chiesto questa cosa perché dovevo andare a prendere i bambini all'asilo e allora sono andata a parlare con il direttore del personale gli ho detto guardi capita questo io non posso restare lì alla direzione commerciale vorrei e poi vorrei utilizzare le lingue perché io parlo inglese e francese e vorrei utilizzarle qui non lo faccio e allora mi mandarono le relazioni esterne stampa in sostituzione di maternità dicendo quando rientra la signora che è maternità le troveremo un altro posto e invece cosa è successo è successo che il direttore che era dottor Camillo Marchetti che purtroppo è scomparso all'inizio di questo mese mi disse che sarei rimasta lì perché aveva fatto una nota alla direzione del personale dicendo che mi ero ambientata bene e che avevo dimostrato buone doti di laboriosità e serietà e quindi sono rimasta le relazioni esterne e lì sono cresciuta un po' alla volta fino a diventare a capo di un pool di donne che facevano la rassegna stampa italiano ed estero cioè tutte le mattine io andavo in Alfa Romeo con altri colleghi si leggevano le diverse giornali si ritagnavano le notizie sempre relative all'automobilismo non solo all'Alfa Romeo ma a tutto quello che succedeva l'ambiente automobilistico e poi si incollavano si facevano dei fascicoli e si mandavano a tutte le direzioni e poi si faceva una rassegna stampa in lingua e io facevo le traduzioni su traduzioni dall'inglese e dal francese poi c'era un collega olandese che faceva dall'olandese dal tedesco eccetera e questo era un lavoro che ho fatto per parecchio tempo e poi nel 1983 sempre il dottor Marchetti mi disse che era giunto il momento di mettere le mani in quella documentazione che giaceva un po' in un armadio di qua un armadio di là un po' di filmati cartelle stampa era tutto messo così conservato ma non c'era un ordine io naturalmente subito dissi di no dico io ma io sì sono appassionata ma non conosco la storia no non la conosco come faccio a capire questo quell'altro come faccio e allora piano piano gli daremo una mano invece questa mano non c'è stata mi hanno buttata a liga da voltate allora cosa ho fatto ho preso un libro che adesso ho qui anche qui con la dedica dell'autore Luigi Fusi Saronese che è stato uno storico dell'Alfa un libro che è la Bibbia degli Alfisti dove praticamente ci sono pagine di tutte cioè ci sono le vetture con le caratteristiche tecniche la storia le date di presentazione eccetera mi sono messa a studiare quindi la sera dopo c'era mi facevo interrogare da mio marito prendi una pagina a caso chiedimi quando è stata prodotta questa vettura ecco queste cose qui e allora ce l'ho fatta perché piano piano poi mi hanno aiutato anche qualche collaudatore che veniva a trovarmi comunque non era più dipendente dell'azienda e comunque magari a volte chiedevo aiuto a loro venivano e mi dicevano beh queste foto o il personaggio quando riuscivo a capire chi era mi dicevano davano il nome quindi io facevo la scheda insomma è stato tutto un lavoro di ricerca che adesso è a disposizione di diciamo così di giornalisti di scrittori di studiosi perché sono fatte tante tesi di laurea con l'aiuto dell'archivio storico tutto questo materiale a me fa venire in mente una cosa perché ormai noi siamo completamente immersi nelle nuove tecnologie anche prima abbiamo visto il nostro computer che lei utilizza molto molto assiduamente quindi cosa ne pensa del passaggio dal fatto di avere una persona come lei cioè lei è una persona con cui si può parlare con cui si possono condividere le passioni e con cui si possono anche condividere i ricordi la storia dell'Alfa con quello schermino freddo che prima o poi succederà anche che magari qualcuno dica digitalizziamo tutto quello che abbiamo e faccia eh vede che nel 1996 il premio già nel 96 con uno dei tre migliori archivi che opera in Lombardia quindi è stato un premio dato da un'associazione di storici dell'automobile quindi non è stata una cosa così perché ho creato una 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 fototeca la biblioteca tutto praticamente catalogato e in più c'è stata anche ehm grazie al premio di 10 milioni ottenuti per questo diciamo per questo riconoscimento la digitalizzazione di tutte le foto in bianco e nero e fotocolor dell'archivio storico in più il restauro di 3.000 disegni una cosa che nessuna casa automobilistica ha fatto dal 1910 quindi praticamente quei disegni che magari presentavano un taglio o presentavano una macchia magari perché avevano appoggiato su non so la tazzina del caffè e non si capivano e c'è stato un ingegnere con una con una diciamo così la titolare di questa azienda che hanno ripreso le linee tutto le misure eccetera e quindi digitalizzate su un dischetto si possono vedere i disegni originali delle prime vetture dell'Alfa Romeo quindi è un lavoro che doveva proseguire ma poi si è fermato perché poi siamo passati in Fiat e tante cose sono cambiate allora io la metto diversamente secondo lei cosa si guadagna e cosa si perde con la digitalizzazione qui perché oggi come oggi vengono da lei anche se c'è la digitalizzazione preferiscono venire da lei quindi cosa secondo lei cosa si va a guadagnare cosa si va a per cosa vuol dire allora si va a guadagnare perché subito riesce a trovare quello perché basta digitare una parola un anno e si trova subito però perde quello che succede quando per esempio uno legge un libro in un buco oppure ha il libro in mano perde il contatto e il contatto con la persona poi diciamo che io dentro di me ho come un computer perché io mi ricordo bene tutte le cose che ho fatto dove sono quindi anche quando devo cercare qualcosa so già qual è il libro perché quei libri lì li ho letti tutti non è che sono lì in bella mostra perché mi empiono una biblioteca io li ho letti li ho sfogliati ho cercato ho segnalato vedrete che ci sono tutti i segnali questi segnali questi post per far capire appunto che quella è la pagina che mi interessa che ho qualcosa che può interessarmi in futuro ancora adesso io ricevo per esempio delle telefonate o comunque dei messaggi da persone che vogliono che grazie a me poi risalgono all'archiviazione nell'archivio è successo qualche anno fa qualcosa che sembrava che non ci fosse poi alla fine invece ho detto andate a cercare qua tra l'altro questo elenco è pubblicato su un libro e quindi ho dato gli estremi per poter andare a fare questa ricerca che di fatti poi è andata a buon fine capisce perché il fatto è questo che io ho lavorato tanti anni quindi l'ho costruito io poi sono stata a contatto con tanti personaggi che mi hanno raccontato aneddoti mi hanno raccontato delle cose che io anche durante l'intervallo li cercavo per chiedere le cose ecco mi racconti quella volta con uvolari mi ha detto una volta però mi sfugge qualcosa e allora lui era felice e mi sentiva importante di raccontare questa cosa qui e quindi è stato affascinante per me questo lavoro perché voi immaginate nell'archivio c'è una lettera della scuderia Ferrari dove il contratto di uvolari con la scuderia Ferrari di Enzo Ferrari perché sapete che Enzo Ferrari è stato 19 anni in Alfa Romeo prima di andare via quindi è andato via con un bel bagaglio diciamo tecnico e ha creato poi la sua scuderia ma c'è questa io ho passato con questo dito le firme di Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari ci sono passato su perché è stata per me una grande emozione dico io sono entrata nella storia ero lì ero lì in quell'archivio ma ero nel 1939 ha capito queste sono le cose che mi hanno emozionato di più e quindi la voglia di conservarle e lasciarle posto alle persone che le possono soffrire dopo perché l'archivio è questo è non è una cosa che deve stare lì sì è bello ordinato è tutto ma deve essere utile io per esempio quando ho archiviato tutte le pubblicazioni tecniche migliaia e migliaia libretti di uso e mottenzione manuali di riparazione cataloghi di ricambio mi servivano per dare le informazioni agli alfisti mi scrivevano e mi dicevano ho questo telaio dovrei ristrutturare vorrei sapere il colore originale e qual era il tessuto dei sedili allora io scrivevo egregio signore in base a questo risulta questa vettura con questo di questo colore con questo numero di codice tinta con questi interni ecco e avevo la risposta gli ringraziamenti di risposta perché insomma gradivano questa cosa riuscivano a portare la vettura e a e a restaurarla il guaio magari sarà quando si già ci sono in circolazione in tanti ambiti quando si inventeranno l'assistente virtuale che magari oltre al database che è già pronto se arriva anche l'assistente virtuale che succede beh lo so ma io spero sempre che ci sia qualcuno dietro a questo assistente virtuale qualcuno qualcuno che magari dica anche buongiorno la persona che si rivolge che si rivolge all'assistente virtuale non lo so comunque io sono rimasta insomma il 2006 quando ho lasciato l'Alfa e tutte queste cose che ho fatto dopo che comunque sono gratificanti per me molto sì per esempio domenica sarò a parte che domani sarò ad Arese ad Agorà la biblioteca perché lì è stato donato da un club di Milano un motore e in più è stato preparato è stato affisso su una parete un poster dove ci sono tutti i personaggi maschili dell'Alfa Romeo progettistico e l'unica donna sono io una fotografia di quando sono entrata ad Arese e sono lì alla fotoocopiatrice fu uno scatto rubato perché mentre stavo facendo le fotocopie mi chiamarono e quindi sono rimasta così mi fa piacere non l'ho ancora visto ma domani vado e come vi dicevo prima farò una foto insieme alla mia foto e proprio parlando dell'oggi dell'attualità piena sempre di Alfa Romeo ma proprio per la sua personalità molto come dicevamo polietrica e gli altri interessi oltre anche al discorso della radio di cui ha parlato c'è qualche altra cosa che la passione in maniera particolare magari anche qualcosa di cui non parla tanto spesso con gli altri così facciamo sapere anche qualche aneddoto in più diciamo che una pagina su Facebook si chiama Teatrando dove ho raccontato la mia passione del teatro forse non ho raccontato come è iniziata nel senso che quando sono andata in pensione non stavo bene non riuscivo a capire cos'era cioè nel senso mi sentivo la testa vuota e allora andavo spesso dal mio dottore e mi faceva fare le analisi erano tutte negative dicevo a un certo punto fa signore ma lei ha smesso di lavorare mi sa che questa è la sindrome dei giapponesi dei cinesi non mi ricordo cioè lei deve fare qualcosa e dico che faccio in effetti è stato brutto quel periodo perché mi ricordo cosa faccio cercavo di trovare qualche lavoretto uscivo ma mi sentivo che mi mancava qualcosa e allora cosa ho fatto mi sono iscritta alla scuola all'Uni3 di Saronno e poi ho fatto l'abbonamento anche a teatro perché a teatro il teatro comunque mi è piaciuto sempre anche perché quando mio padre che faceva appunto musica come dicevo prima si facevano sceneggiate sulle sue canzoni mi portava con sé e quindi io ero seduta in prima fila e assistevo alle prove quindi Mario Merola sono cresciuta diciamo ecco e poi le ballerine mia mamma siccome era molto gelosa diceva sei sempre attaccata a tuo padre allora capitava che sì sì perché c'era sempre un figlio eramo in cinque quindi non sempre poteva andare con papà anzi dopo vi farò vedere una foto di mia mamma e mio papà al festival di Napoli l'ultimo festival di Napoli che mi è capitata nelle mani l'altro giorno stavo ordinando per altre cose dico la tengo qui per Piero e la faccio vedere e quindi dicevo che stavo lì lo seguivo quando andava per esempio nei camerini lì c'erano tutte le ballerine che praticamente erano nude perché dovevano cambiare questi costumi erano soltanto e allora dicevano buongiorno buonasera maestro e io lo tiravo lo tiravo perché ero gelosa di mio padre non volevo che vedere poi restavo anch'io scioccata perché non avevo mai visto delle cose così erano tanti camerini c'era la prima ballerina poi c'erano tutte le altre tutte donne che erano abbastanza in carne adesso le ballerine sono magre no? e mi ricordo che c'era il coreografo che insegnava loro i movimenti una sera è capitato che non riuscivano a coordinarsi allora lui si è arrabbiato è salito sul palco e si è messo a fare così prendi e porta qua prendi e porta qua perché sai quando le ballerine facevano così e mi è rimasto impresso quando sono tornata a casa il giorno dopo io e le mie sorelle ho insegnato le mie sorelle e ho cominciato un altro tormentone quello nonno vuoi vedere come facevano le ballerine e facciamo così poi veniva lo zio zio sai come facevano le ballerine insomma guarda c'è tanti pericordi di quel periodo di Napoli nell'ambiente diciamo così musicale sì perché mio papà mi portava spesso come mi diceva anche prima quando torna al di là poi dopo di rilasciarla nuovamente con quel pizzico di malinconia cos'è che le piace di più ritrovare quando va a Napoli adesso? innanzitutto l'aria quando sono andata l'anno scorso sono uscita dalla metropolitana ho chiamato mia sorella qua ho detto Paola l'aria è diversa si capisce che non siamo a Salon sono a Napoli e sono uscita appena dalla metropolitana eravamo al Vomero proprio in piazza al Vomero mia sorella è venuta a prendermi alla stazione e poi la prima cosa al bar la sfogliatella è la prima cosa è la pizza mangiare poi naturalmente la visita alla zia e la passeggiata a via Caracciolo e visitare qualcosa per esempio l'anno scorso ho visitato la mostra di De Filippo a Napoli al Castel dell'Ovo e poi è una mostra molto bella fatta dalla dalla moglie del figlio di De Filippo che morì ecco è qui Luca Luca De Filippo e poi tutte le cose che si possono fare a Napoli insomma andare al cinema comunque ritrovare gli amici e fare delle bene mangiate in famiglia quelle sì proprio il discorso che diceva prima è difficile non avere nel cuore la città in cui si è nata difficile ma tutti tutti è così ma ne riconosci gli odori i rumori i suoni tutto senti il clacson e sai che quello è il clacson di Napoli non è il clacson di Saron lo capisci vedi che è diversa la cosa i panistesi e poi quando vai per esempio nella parte storica di Napoli a vedere i presepi tutti i presepi lo sai che non si poteva camminare ci sono tantissimi turisti a Napoli tantissimi dappertutto e poi il fast food che è inventato Napoli vi ricordate il film famoso di Sofia Loren che fa le pizze fuori dal suo basso a Napoli nella zona povera ci sono questi bassi e quindi quest'anno l'anno scorso c'erano tante cose in più anche degli stuzzichini come li chiamano tipo arrosticini però con i pesciolini con i gamberetti tutte queste cose cattivanti e poi c'era il cozzetto del pane sapete il pane c'ha le due punte di qua e l'anno scorso hanno inventato un'altra cosa la parte finale viene svuotata e si mettono dentro delle polpette col sugo io non l'ho mangiato perché non avevo paura di ungermi per strada però sinceramente vedevo che c'erano tanti ragazzi che li facevano con gusto e un'altra cosa per esempio la pizza Totò la pizza Totò è una pizzeria voi sapete che la pizza è intorno a tutto il bordo che noi chiamiamo cornicione a Napoli di fatto si dice non buttare il cornicione che è la cosa più buona e allora praticamente quel cornicione lì era tutto pieno di ricotta quindi si mangiava per forza lei tagliava la pizza questa parte qua veniva fuori la ricotta fresca che scendeva giù e poi le varietà di pizza che sono diverse di più rispetto a quelle che mangiamo qua a Milano c'è la pizza con le scarole qua per esempio la scarola non è che si mangia tanto a volte con le mie amiche ma cos'è la scarola ho dovuto dare qualche ricetta perché non sanno che cosa invece noi noi mangiamo già al sud si mangia molta verdura molta e io ho mantenuto comunque l'alimentazione di casa mia mangio poca carne più pesce e sempre sempre verdura cotto crudo la sera e la mezzogiorno c'è sempre sulla mia tavola conosco bene perché avendo la mamma calabrese anche lei con la verdura alla grana infatti la scarola conosco bene lei la conosce sì sì assolutamente la cosa che mi incuriosiva è che lei parlava di tutte queste varietà di cibo io purtroppo confesso magari adesso mi picchierà non sono mai stato a Napoli ci doveva andare l'anno scorso poi alla fine è saltato tutto quindi prima o poi ci andrò e poi le dirò le sensazioni Napoli puoi muori ma no perché muori quello magari no per carità ci vado io tante volte che sono qua vive vegeta no perché nel senso di dire puoi anche morire perché dopo aver visto Napoli ma guardate che è così cioè perché Napoli è unica non c'è un'altra città che sia uguale a Napoli perché puoi andare a Roma a Firenze è unica una che va lì una volta si resta un po' magari scioccato per i rumori e le cose però dopo ci si trova così bene perché la gente per strada si parla si saluta va nel bar e c'è il caffè sospeso io ogni volta che vado a Napoli lascio il caffè sospeso che arriva qualcuno tu vedi nel bar magari sei lì vedi un vecchietto che entra fa così e fa sì c'è c'è e allora si beve il caffè gratis ed è un'usanza che è nata quando magari nasceva un bambino o c'era il figlio che si sposava allora le persone felici dice pago un caffè e invece di pagarne uno ne pagava due e questa usanza qua c'è ancora sì c'è ancora e qui la vedo dura però Milano non mi è mai capitata questa cosa non funzionerebbe qua però è una cosa che ha preso piede vedevo a Parigi perché io quando ho fatto questa ricerca su Napoli sempre per Radio Rizzonti su internet e quindi ho raccontato anche di questa cosa del caffè sospeso ho praticamente trovato che in Francia in alcuni bar fanno questa cosa richiamandosi a questa cosa che comunque è nata a Napoli perché Napoli è nata sì adesso andando un po' in conclusione le volevo chiedere abbiamo visto questa vita piena con tantissime sfumature con mille colori lei cosa si immagina per il futuro quali sono le cose che magari ancora non ha fatto ce le ha lì nel cassetto le vorrebbe fare o magari lasciamo fare al fato c'è un sogno ma se si avvererà questo sogno il primo a saperlo sarà proprio Piero da Saronno l'anno prossimo ti do l'esclusiva grazie c'è un sogno davvero nel cassetto spero proprio che sia veri per il resto la mia vita penso che continuerà così sempre nell'ambito delle amicizie dei miei amici alfisti sarò sempre presente se Dio vuole come si fa a dire però la mia volontà è quella di essere con loro sempre e poi l'anno prossimo c'è appunto questo centenario dell'Alfa Romeo cioè i 110 anni dell'Alfa Romeo una ricorrenza importante quindi penso che sarò molto presa per questa cosa qui sì sì poi qualche viaggetto vorrò fare sempre fatto sono stata in America sono stata in tanti posti in Irlanda un viaggio bellissimo sono stata a Cuba quando lavoravo e periodi di ferie principalmente quando sono rimasta sola perché sai in compagnia fare le vacanze è un conto ma quando sei da sola cerchi di fare il viaggio a meno che non ti abbini a qualcuno a qualche amica ma non è sempre facile trovare qualcuno disponibile o qualcuno con cui ti trovi bene e quindi in quel periodo lì mi ero dedicata a questi viaggi a conoscere un po' il mondo per cui vorrei riprendere ecco un pochino questo e passo rimaniamo con la suspense su quella particolare progetto siamo a fine anno quindi manca qualche mese sì no 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 sarà l'anno prossimo nel 2020 sicuramente qualche mese ci siamo sì sì ma non è per il centenario dell'Afro un'altra cosa che riguarda a me ma comunque è un sogno un sogno davvero un sogno a cui tengo moltissimo io per il futuro invece faccio il fioretto di andare a visitare Napoli poi le farò sapere tanto sappiamo già che sarà meraviglioso e ovviamente noi la ringraziamo perché è stata molto gentile ci ha ospitato qui da lei poi vedrete anche le foto vedrete anche altre cose e ovviamente le auguriamo il meglio ma lei già il meglio lo sta vivendo quindi grazie grazie mille io non so a chi interesserà la mia vita comunque a me è interessata nonostante qualche periodo buio però devo dire da donna e questo è un messaggio che do a tutte le donne noi ce la facciamo noi ce la facciamo perché se siamo lasciate non ammazziamo noi se siamo lasciate ci prendiamo la nostra vita in mano e andiamo avanti quindi questo è un messaggio che do a tutte le donne tutte le donne che insomma hanno vissuto dei momenti un pochino così ci tiriamo sulle maniche un po' il lavoro la famiglia i figli e volerci bene che è la cosa più importante volersi bene ecco perché da lì inizia poi l'amore anche verso gli altri se star bene con se stessi si sta bene anche con gli altri giusto Piero? grazie a te grazie davvero del tuo interesse e della tua amicizia grazie mille se l'Alfa Romeo fosse una donna non penso a Noemi e nemmeno a Madonna neanche immagino Beleno Bellucci nemmeno Labruni né Millie Carlucci la donna dell'Alfa deve avere un profumo quel non so che a cui resista nessuno deve essere affabile passionale raggiante e di donne così non ce ne sono tante beh io la conosco si chiama Elvira ma quale Canalis lei di Shakira se non fossi già stato sposato due volte andrei a Saronno a farle la corte lei rappresenta per tutti gli alfisti l'unico modo per sentirsi artisti è la sola donna che ci comprende e conosce dell'Alfa passato e presente con il repertorio delle sue foto la nostra passione lei mette in moto ci parla di Busso di Chiti di altri maghi e ricorda De Adamic Bonini Luraghi ha conosciuto Zeccoli e Sala per anni ad Arese è la più coccolata nei suoi racconti c'è qualcosa di fiaba che fa la giornata felice e beata e se ti augura la buonanotte sogni l'alfetta almeno due volte se invece ti dice buona serata è come guidare una Giulia truccata un buongiorno dato col suo caffè vale un giro a Monza con la P3 la sua espressione lo sguardo che ha è come provare una GTA poi quel sorriso un vero portento sarà centro stile o galleria del vento i veri alfisti non diranno che troppo la donna ideale è il viraruocco